ciao ti chiedo un saluto io sono il salutatore a tutti i fan che ti seguono un saluto speciale ai fan della gatta nera del mercante in fiera ovviamente saluto ai fans della gatta nera nel mercante in fiera e una sorpresa pure per te la manina del salutatore ecco ciao